Ciao ragazzi, sono Pingu e benvenuti qui in questo nuovo video oggi andremo a reagire ai migliori momenti divertenti dell'NBA parte 1 ovviamente come sempre vi lascio il link in descrizione del video se volete andarlo a vedere per chi ho scelto questo video sull'NBA, visto che io gioco a basket ci sta a iniziare con qualche reazione divertente al mio primo sport lo porterò anche di altri sport? assolutamente sì lo vedrete a breve, non so ovviamente questi video quando li sto registrando o quando escono quindi forse coraggio perché altrimenti ci rapiscono e ci fanno diventare un ostaggio grande rima eccoci qui allora, reazione al peone sono più o meno 9 minuti quindi ci sta anche di video ovviamente ripeto lascio il link in descrizione per evitare prendere insulti da chi fa questo video ovviamente lo sto registrando subito dopo a VUJURADAR che tanto sarebbe uscito quindi se vi vedete con la sissa canottiera è per quel motivo ecco giusto per avvisarvi che non è che non mi lavo iniziamo ok ci fa il McGee oddio mio McGee mio ok tiro libero no, e te no penso che mi ha dato tecnica tutti e due da tre? venga no amico mio cosa fai gasol poi gasol madonna mia è uno schiaffo pazzesco da paracomitata quella l'altro 9 a New York oddio oddio bello no non è rientrato da fuori eh vedete adesso vado a rivedere il replay aspetta andiamo eh niente ho capito ok taglia fuori ok cosa fa? pubblicità credo che non l'hai presa amico mio hai reso gli ultimi eh ma perché voleva rendere gli ultimi 56 secondi o quanti mancano più avvincenti è un punto so io distacco immaginate se prendeva palle e subiva anche fallo che andava al libro e poteva pareggiarla pazzesco gordo mio di senza oddio ok Lebron no la palla persa più idiota del mondo no they run for 3 got it ok ok no tira tu oddio quelle scarpe più sobra del mondo ok libero questo è un tiro libero, nessuno sa che sia vivo, quindi si stia da Giannis e si scorda è un tiro libero solo è un tiro libero solo, fantastico Zellers è fantastico la faccia del motore Joel, MB ok ah no ma io ci ho provato eh oddio, si sono ancora raffreddato ci sono schientati tra di loro, non ci credo cioè il suo, gli ha fatto il blocco praticamente no vabbè fantastico Olinik passi ah no, si che gli ho lì eeeh quadrato e nei Marvel's insieme eeeh si vabbè vabbè dai morto eeeh 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 questo sono io nella prova non spaventarti ok, palla recuperata, palla recuperata, si numeri vai 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 bello bello e gran palla persa no era tutto giusto e dopo Joel McGinn, perchè non è andato su qui? ah non è stato stoppato ok ok madonna mia wow spaccata e ha perso anche la scarpa madonna mia pazzesco ok oddio ti fai da quella scarpa? no vabbè fantastico gibson mio cosa mi combini bravo eeeh non mi ricordo il nome e basta spiagge.it ok boom madonna ahia ahia bella uh e non è campo questo scusa considerato domanda considerato no perchè era già di là no aveva toccato il ferro clayton c'era il canestro così me ne andavo oddio non ho mai visto una difesa così aggressiva mi sarà Bonucci, Chiellini e Barzagli insieme oddio oddio ho preso un dente preso un dente bello beh comunque gli è arrivata Irving beh penso che sia il passaggio più bello del mondo questo no non so se go clips go favors venga ha sbagliato ha sbagliato ha sbagliato ha sbagliato grande tifoso contro mi l'aveva guffata mi è successo anche a me il torneo che avevo fatto con quello che vi raccontavo bello ha sbagliato bello 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 ma le ho sbagliato per andare in pazza in due si sono fatte autocannestra pazzesco e giustamente se la ridono vai di fisico di fisico grande smart l'idea era anche giusta però bello no non ci credo so che rimaneva incastrata madonna ucciso bello 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 scusate qua no ah no col piede ok carriiii potriiii nooo una borraccia spontanea bunker la palla gli arriva in testa damn oddio robin lopez a 3 attenzione smarmelli caffettino e bevuta ah ok che ritornate che la prendiamo in giro ok io direi che appunto possiamo anche concludere qui questo video ringraziamo ovviamente Dan Caldente per averci proposto questo video ve lo lascio in descrizione andatelo a vedere ah io direi che possiamo appunto concludere qui l'episodio ci vediamo alla prossima reaction comunque o qualsiasi altro video che farò un saluto da tutta Pingu vi ricordo di lasciare un like un commento e iscrivetevi se no vi vengo a cercare seguite il suo instagram ericconzoni pingu altrimenti di picchio e noi ci vediamo a un prossimo video che non so quale sarà ma nel dubbio divertitevi e venite a vederlo ciao 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 ciao